Ciao ragazzi e ciao a tutti e bentornati nel mio bellissimo canale Allora, eccoci qui, questi qui sono sempre i spring roll ma questa volta fatti con la sfoglia di riso che non so se l'avete mai vista sul mio primo canale ma ci sono un sacco di ricerche facciamo prima di tutto assaggino il zenzero eccolo qua, l'involtino con la sfoglia di riso spettacolare dove la mettiamo? Cin cin, meraviglioso dentro si potete mettere tutto quello che vi piace di più un po' di ricerche E' un po' di metterci e torrari. Giamma mia Mamma mia Buon appetito! Facciamo l'ultimo, eccolo qui questa, meraviglia assoluta, ripuliamo la salzina che non ci lascio proprio niente Buon appetito! 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 Buon appetito!